La vincitrice del premio Strega Giovani 2016 è Rossana Campo. Rossana Campo, che venga sul padre. Dove troverete un altro padre come il mio. La scrittura autobiografica è la scrittura più coraggiosa e più spudarata che ci sia. Chiunque ha diritto di raccontare la propria storia, a se stessi e a chi vuole ascoltare. Per dire che abbiamo vissuto, abbiamo attraversato il fuoco e siamo ancora qui a raccontarlo. Abbiamo ancora questa scintilla intatta, vogliamo raccontarlo.